Buongiorno, ben trovati da Silvia Giovan Rosa, ben trovati a quanti in questo momento ci stanno seguendo anche in diretta sulla nostra pagina Facebook Radio Vaticana e Vatican News e buon ascolto anche a chi in questo momento ci sta seguendo sulle nostre frequenze radio di Radio Vaticana, una diretta speciale questa di oggi, una diretta Facebook speciale questa di oggi come potete vedere sono completamente sola nello studio perché stiamo per dare la linea al nostro studio mobile che in questo momento si trova nel cuore verde di Roma in un posto veramente meraviglioso sulla terrazza del Pincio di Villa Borghese per un evento veramente molto particolare, l'edizione 2024 del villaggio per la terra ideato da Earth Day Italia e realizzato in collaborazione con il movimento dei focolari di Roma. Ovviamente lo scopo della manifestazione è quello di sensibilizzare per la cura del creato e per la cura dell'ambiente. Ci colleghiamo quindi con i nostri inviati Giancarlo Lavella, Massimiliano Menichetti che in questo momento si trovano proprio sulla terrazza del Pincio, buongiorno. Buongiorno Silvia Giovarrosa, grazie, c'è anche Stefania Ferretti. Stefania, buongiorno a te, ciao. E siamo qui già dall'inizio della trasmissione dopo il radiogiornale, stiamo godendo di una splendida giornata immersi nella natura per parlare di natura. Lo facciamo con le tante realtà che saranno presenti qui al villaggio della terra in occasione del Earth Day. In particolare Stefania, dopo aver ospitato i carabinieri forestali, la federazione pugilistica italiana, ora cambiamo totalmente argomento? Totalmente, il tema è sempre quello, è sempre di ambiente parliamo, no? Sì, abbiamo con noi il presidente del Cira, che è il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, pensate, dottor Antonio Blandini, benvenuto alla Radio Vaticana, benvenuto a Radio Vaticana con voi. Insomma, ecco, un legame particolare questo. C'è la terra. È un legame essenziale, noi viviamo in un ecosistema in cui lo spazio e l'ambiente aereo sono decisivi per la tutela del pianeta e per il futuro, per il nostro futuro. Noi al Centro Italiano Ricerche Aerospaziale sviluppiamo tantissimi progetti in vista di decarbonizzazione, tutela, diciamo, dello spazio da presenza di rottami di cui poi magari parleremo e individuazione anche di situazioni di inquinamento, di territori che hanno bisogno di un pronto intervento che possiamo fare dallo spazio, dalla stratosfera. Quindi interveniamo su più lati per la tutela dell'ambiente. Quindi è un'azione sia di controllo ma anche poi prettamente operativa. Ecco, questi rottami è una cosa che mi preoccupa, il nome. Eh sì, perché ci sono moltissimi satelliti che sono stati lanciati in orbita negli anni. Dismessi ormai? Che dopo un certo periodo di tempo non funzionano più, rispetto ai quali è necessario un intervento volto alla rimozione, perché altrimenti poi diventano dei rottami che inquinano, che inquinano, rispetto ai quali non esiste oggi una convenzione o accordi internazionali. E adesso noi del Cira, insieme ad altri soggetti, firmeremo a Berlino, all'Ila di Berlino, che si terrà giugno, un accordo per individuare i percorsi più corretti per l'eliminazione di questi rottami. Quindi bisognerà andare nello spazio, quindi entrare in orbita intorno alla Terra e pian piano rimuovere. Eh sì, è sì, è sì, è necessario farlo perché anche questa spazzatura va rimossa. Questa spazzatura va rimossa e allo stesso tempo, ecco, se vediamo la nostra Terra come circondata, spazio, stratosfera e poi spazio aereo. Nell'ambito stratosferico stiamo sviluppando una piattaforma stratosferica che consente l'osservazione della Terra in una situazione di prossimità e di persistenza, a differenza dei satelliti, perché i satelliti viceversa osservano la Terra in maniera periodica ma non persistente e poi da lontano, da lontanissimo. E questa piattaforma, una volta sviluppata, consentirà una effettiva tutela dell'ambiente in tante situazioni, come ad esempio un progetto che abbiamo già in qualche modo avviato e che naturalmente porteremo avanti una volta sviluppata, della Terra dei Fuochi. E diciamo come si individua... Quindi siamo in Campania, pur tristemente nota, Terra dei Fuochi, vicino Caserta mi pare. Sì, nella zona più del casertano, ma lontana da Caserta, ma in ogni caso sono le piante che sono sentinelle della Terra e quindi denunciano, cambiando la loro emissione di colore, la loro fluorescenza, una situazione di possibile inquinamento ambientale. Con un'osservazione persistente è possibile immediatamente intervenire e rimuovere la causa. Presidente, mi faccia capire, voi dallo spazio riuscite a monitorare e quindi a sentire un po' la temperatura, diciamo così, di ciò che è a pochi centimetri dal suolo? Assolutamente sì. Questo è veramente progresso, insomma, secondo me, no? Assolutamente sì. Naturalmente sono sviluppi che poi non vanno soltanto in un senso, diciamo, di individuazione di situazioni di danneggiamento della Terra, ma anche di costruzione. ad esempio per lo sviluppo di piantagioni agricole, di altre situazioni di questo genere, in cui questa osservazione può essere di aiuto. Ma voi vi muovete a livello internazionale anche? Sì. Perché penso anche ai famosi rottami di cui ci ha parlato poco fa, no? Sì, sì. Anche di segreti, immagino, militari, perché poi i satelliti sono stati per la prima volta usati proprio a livello militare. Sì, diciamo, per il momento i satelliti sono fondamentali per la nostra vita, perché anche tutto quello che facciamo, il telefonino, le comunicazioni dipendono dai satelliti. C'è uno studio che ha evidenziato come l'impatto indiretto del mondo spaziale sulla vita della Terra è del 60% di quello che facciamo, come impatto indiretto. Quindi è un impatto notevole. Quindi non c'è la possibilità di tornare indietro, cioè quelli che auspicano un ritorno ad una vita bucolica estremamente semplice, però devono rendersi conto che a certe cose non si può più rinunciare, quindi dobbiamo sfruttare al meglio, in maniera più sostenibile, quelle cose che abbiamo oggi. Assolutamente sì, ma il progresso però deve tutelare la Terra e deve tutelare il nostro futuro e noi questo lo facciamo anche nel trasporto aereo, perché ci occupiamo naturalmente anche di sviluppi per una riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo. Il trasporto aereo oggi è praticamente quasi a livello di autobus e si prevede che nei prossimi anni ci sia addirittura un raddoppio del trasporto aereo. Questo ha un impatto ambientale significativo. Il trasporto aereo mondiale incide sull'inquinamento per poco meno del 3%, che è comunque una percentuale significativa e naturalmente se ci fosse un raddoppio si arriverebbe al 6%. Quindi qual è il percorso per la decarbonizzazione del trasporto aereo? Un percorso molto chiaro, che vede come time limit il 2050, nel quale l'impatto del trasporto aereo dovrà essere azzerato completamente. Questo è un impegno che a livello europeo abbiamo già assunto, con degli step intermedi al 2030-2035. Come si fa? Immagino carburante, carburante più puliti. Possiamo lavorare su vari ambiti. Il primo è il carburante, sì, è correttissimo. Si stanno sviluppando, e già in parte utilizzando, SAF, cioè carburanti che provengono da fonti non inquinanti. Dato che aereo elettrici per ora... Però si stanno sviluppando. Ah, si stanno... Si stanno sviluppando. Pensavo di fare una battuta. No. Le ricariche sulle nuvole, no? Le ricariche di aerei ibridi, insomma. Ma ecco, adesso non per gli aerei, ma per altri tipi di oggetti che volano, come ad esempio la nostra piattaforma, lo sviluppo è a celle solari. Per l'aereo però comunque si stanno sviluppando sistemi, sia per gli elicotteri, sia per gli aerei, che abbiano delle celle elettriche. E l'altro grande tema è quello dello sviluppo dell'idrogeno. Certo. Chiaramente l'idrogeno ha delle problematiche che si stanno cercando di risolvere in termini di dimensioni, di peso e soprattutto poi di infrastrutture. Di stoccaggio. Di stoccaggio e di consentire all'idrogeno di arrivare all'aereo. Certo. Per rifornirsi. Ma anche su questo le prospettive sono molto buone per aerei a medio raggio, in tempistica anche piuttosto ravvicinate. Quindi nei prossimi dieci anni ci saranno grandi cambiamenti da questo punto di vista che consentiranno un ambiente più pulito. Molto bello perché noi prima parlavamo di speranza come qualcosa, speravamo che la speranza fosse qualcosa di più concreto e questo ci dimostra che lo è, perché si sta veramente studiando per un mondo più pulito e questo grazie al Cira, il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali. Cosa ci fa il Cira qui al villaggio della Terra e come siete presenti? Il Cira è presente con un proprio stand nel quale i nostri ricercatori presentano ai ragazzi alcune delle ricerche che svolgiamo come la piattaforma stratosferica, come dei materiali adattivi che abbiano un minore impatto ambientale perché anche il materiale può incidere e l'inquinamento va considerato che non è solo un inquinamento da ad esempio emissioni nocive ma le emissioni sono anche quelle acustiche e anche sull'impatto acustico stiamo lavorando molto perché in una visione futura in cui ci saranno i droni che avranno un ruolo sempre più importante nel trasporto di materiali sanitari, di altri elementi che necessitano una connessione immediata, il tema dell'impatto acustico è un tema molto importante. E l'inquinamento luminoso invece anche quello è un altro problema? Anche di quello ci si occupa però devo dire nell'ambito del trasporto aereo e spaziale l'inquinamento luminoso ha una nocività inferiore rispetto ad altri fenomeni. Grazie, grazie al Presidente Antonio Blandini, grazie per essere stato con noi a Radio Vaticana E' interessante sapere che qualcuno ci tutela dall'alto Non in altissimo, insomma a metà strada All'altezza della strada Nel rispetto dei ruoli Nel rispetto dei ruoli Abbiamo qualcuno che pensa a noi, grazie Grazie a voi Grazie Grazie Noi terminiamo qui, non so se si termina dalla sede centrale lo spazio di radiovisione Terminiamo da qui, Stefania Ferretti, ecco siete stati sulla piattaforma Facebook e noi ci salutiamo qui, ma continuiamo Radio Vaticana con voi in radio Grazie 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 Grazie